per la Juventus, anche nel secondo turno è la volta del Manchester United, siamo a Manchester il 20 ottobre del 1976 le opportunità per la Juve con Causio che prende il palo all'inizio di questa gara di andata contro il Manchester United, qui Boninsegna, classica azione di contropiede di Boninsegna è la palla che termina fuori parata dal portiere del Manchester che è Stipney vediamo le formazioni, Stipney, Nicol, Albiston, Daly, Grinoff, Houston, Koppel, McIlroy, Pearson, Macari e Hill questo era il Manchester United, poi la Juventus di Zoff, Cucureddu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Bettica arbitra, diversi della Germania Ovest, il gol del 32esimo di Hill, gran gol al volo di sinistro la palla appena sfiorata da Zoff è una delle opportunità del Manchester che seguiranno questa rete di Hill il replay evidenzia lo schema, la torre e il gol al volo di Hill l'opportunità per il Manchester United è fallita e qui il calcio di punizione di poco fuori sono le occasioni principali di questa gara e passeremo ora al turno di ritorno tra Juventus e Manchester che finisce 3 a 0 con i gol di Boninsegna al 29esimo e al 63esimo doppietta e poi Benetti all'85esimo 3 a 0 per la Juve che seguiamo con il commento originale di un servizio dell'epoca un gol in il bag un gol in il bag